Grazie, grazie Presidente. Allora, anche questi due ordini del giorno hanno un taglio di natura pratica e riguardano la qualità dell'aria, perché sicuramente è uno dei fattori coinvolti nell'emergenza ambientale. Qualità dell'aria che può essere compromessa a loro quando sono presenti degli inquinanti atmosferici. Vediamo in particolare degli inquinanti che conosciamo tutti, i particolati, i PM10, i PM2,5 e il biossido di azoto, l'NO2. Sappiamo che in particolare il biossido di azoto è ascrivibile al traffico veicolare, i veicoli con motori a combustione interna che determinano questo stato qua. Ovviamente, e in particolare per quanto riguarda il biossido di azoto, nell'agglomerato di Roma spesso le centraline misurano valori medi annuali superiore ai limiti di legge, che sono i limiti stabiliti poi dagli organi istituzionalmente proposti a queste funzioni. Ovviamente sono problemi che non riguardano solo Roma, ma non riguardano neanche solo l'Italia, ma sono problemi di natura mondiale, europea, poi italiana e anche locale e regionale. Ed infatti la Regione Lazio è uno degli istituti che governa e disciplina le misure per fare fronte a queste situazioni. In particolare un documento molto importante che produce la Regione Lazio è il piano di risanamento della qualità dell'aria. Ed in particolare nello scorso agosto c'è stato un aggiornamento di questo piano. Il piano ha due obiettivi fondamentalmente. Determina quelle misure che servono a ricondurre la qualità dell'aria a valori accettabili laddove è stata misurata una condizione inaccettabile. E poi le misure per mantenere lo stato ottimale della qualità dell'aria. In soldoni poi, in questo piano si arriva a determinare, si dividono queste azioni fra settori, misure e quindi azioni. Per quanto riguarda quegli inquinanti di cui parlavo prima, in particolare, in questo aggiornamento del piano della Regione Lazio si arrivano anche a determinare quali sono i compiti della Regione e del Comune di Roma. La Regione in particolare si è autoindicata come compito l'incentivazione al rinnovo dei mezzi pubblici e privati con veicoli a ridotta emissione. Mentre per quanto riguarda i compiti del Comune di Roma, ha stabilito la concessione di contributi o altre agevolazioni per l'attuazione di una mobilità sostenibile abitazione e scuola. Ahimè, quest'ultima circostanza è molto attuale perché sappiamo tutti dei nostri ragazzi che in questi mesi di emergenza sanitaria nelle scuole magari vivono una condizione di relativa sicurezza. Mentre quando da casa devono raggiungere la scuola o quando usciti dalla scuola devono raggiungere la casa possono vivere situazioni un po' più pericolose dovute all'affogliamento dei mezzi pubblici. Allora, andando in concreto però, la Regione Lazio poi nell'aggiornamento ha già indicato quello che saranno le loro previsioni di azioni future e che riguarda incentivi per la sostituzione dei mezzi ma riguardano esclusivamente il parco veicolare auto. Quindi non entra nel merito di parco motocicli e ciclomotori. Sappiamo che da questo punto di vista ci sono contributi anche di natura statale. C'è il bonus mobilità del Ministero dell'Ambiente che contribuisce per l'acquisto di biciclette elettriche a periodo assistita però fino a un 500 euro. di contributo massimo ci sono i contributi statali, il Ministero dello Sviluppo Economico con il famoso ecobonus del decreto rilancio e poi il successivo decreto agosto che va però a dare contributi sempre per autovetture e in questo caso anche ciclomotori e motocicli e quindi i contributi statali non riguardano le biciclette o altri mezzi di questo tipo. Poi un piccolo scenno voglio farlo a situazioni, chiamiamole virtuose perché laddove ci sono comuni che hanno atteggiamenti virtuosi perché non seguirli e non prendere esempio. Recentemente a luglio il comune di Milano ha pubblicato un bando per la concessione di contributi e si parla di contributi all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale destinati a cittadini maggiorenni senza limitazioni ISEE e cumulabili con l'agevolazione concessa dallo Stato. Quindi detto tutto questo, fatto tutte queste premesse, velocemente il dispositivo vado a leggerlo e questo. l'Assemblea Capitolina impegna la Sindaca e la Giunta a valutare la possibilità di concedere contributi cumulabili con l'agevolazione concessi dallo Stato destinati a cittadini residenti a Roma maggiorenne e senza limitazione ISEE per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale della tipologia ciclomotori e motocicli elettrici, bici o cargo, bike a pedalata assistita o a trazione elettrica, differenziando il contributo in funzione dell'eventuale rottamazione di ciclomotore o motociclo inquinante. Questo è il primo ordine del giorno, Presidente.